Fere, teniti forte, stai calma, fai un bel respiro Ho già capito, sai perché? Perché sento un odorino dolce, un odorino buono Ma come fai Fere? Siamo lontanissimi Ecco perché io sono abituata, cioè sono un'esperta mangiatrice di dolci, inizio a dirlo Ok Quindi è normale che sento già l'odorino qui nell'aria E sai esattamente che cosa dobbiamo fare? Torte Esattamente, dobbiamo creare delle torte, dobbiamo cucinare e preparare delle torte buonissime E venderle ai nostri clienti, esattamente, venderle e non mangiarle, cara mia Allora questo lavoro non è più bello Fere con i soldi però ti puoi fare una casa E ti piace fare le case a reda Non lo so, magari, non lo so Comunque dobbiamo venderle e non le puoi mangiare Quindi non rompere le scatole, fai da brava E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Stef, che si chiama Roblox E oggi siamo qui con la mappa perfetta La mappa più bella, la mappa più fighissima mai fatta su Roblox Perché noi oggi dovremmo fare delle torte Allora, se io torno indietro nei nostri più o meno 120 video di Roblox o quelli che sono Credo che questa tua frase l'avrete almeno 15 volte Perché non abbiamo mai avuto un negozio di torte, quindi è impossibile che io l'abbia mai detta In realtà sì, abbiamo preparato anche torte, abbiamo fatto di tutto su Roblox Però c'è da dire che, allora, ultimamente su Roblox non uscivano tante mappe belle No, sì, infatti L'abbiamo portato di meno Benissimo Ora che mi fai questa mappa è normale che noi siamo felici Ma hanno fatto un sacco di mappe nuove davvero carine e finalmente la stanno risviluppando Ma non perdiamoci in ghiacchere, anche se mi è venuto in mente una cosa carina di cui magari ti parlo dopo Me la tengo per me Allora, Stef, facciamo una cosa Spiego io, spieghi tu Mettiti qua Io vado a fare le torte e tu non lavori, ciao Sei simpatica Sì, molto È a un piano e il colore, non c'è il colore No, devi vedere il colore dell'impasto, Stef Ok Ho sbagliato Icing e viola, ok E poi è decorato con le candeline Sono riuscita a prendere l'ordine, bene Ah, eccoli, ti stavo per dire, Stef, come accidenti mi ricordo a memoria quello che ho appena fatto Però tu vedi C'è la tabella, questa è la mia, quella alta e l'altra la tua Allora, aspetta, vieni a prendere altri due ordini e dopodiché iniziamo a cucinare Allora, questa è chiaramente la forma Dopodiché come marrone sotto è davvero difficile, credo sia questo Poi è viola Dopodiché non ha nulla e quindi ordine completo Ok, fatto pure io Allora, per cucinare una bella torta dobbiamo scegliere prima di tutto la grandezza e quindi anche la forma Io come prima prendo quella lì con le candeline Che l'hai presa tu, sì, e io mi prendo questa Allora, devo fare, la torta l'hai cliccata? Sì, infatti me la fa vedere qua Allora, e come batter? Però aspetta, Stef, io non avevo realizzato che quella più piani io quindi dovrò fare più torte e metterle una sopra l'altra Ma è difficile, Fede Eh, non l'ho mai fatto, quindi è stra difficile Fede, cambia l'ordine, prenditene una quadrata lì normale No, 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 non c'è torta che Ferenichi non sappia fare Ma non c'è torta che Ferenichi non sappia mangiare, semmai Anche fare No Le so fare le torte Allora, in cinque anni non mi hai mai preparato una torta quindi non le sai fare Perché siamo a casa tua e a casa tua il forno non funziona Come puoi fare una torta senza un forno? Quindi la colpa è di Stef che non mi regala un forno Adesso E se io non ho un forno non posso uscire le torte Ti porto in un posto dove c'è un forno andiamo in una pasticceria chiediamo un attimo Scusi, siamo i multiplayer su un console e dobbiamo fare una torta E te la faccio fare E ci arrestano E ci arrestano Allora, mi devo un attimino concentrare quindi silenzio Stef Ferenichi Ferenichi come faccio a sapere la grandezza della mia torta? Cioè lo devo capire così a sentimento? Sì, sì, sì Dopo che preparo l'impasto giusto Cosa dovevo fare? Non mi ricordo più tutti i procedimenti Allora, forse dovevo mettere l'icing station Dopodiché dovevo metterla in forno e poi finire Sì, credo che fosse così Quindi dobbiamo mettere il colore viola Appoggiarla qua E un'idea to bake e debatter Ok, vedi ho sbagliato No, prima bisogna cuocerla È ovvio Stef Sì, sì Allora, io penso di dover cuocere tre pezzi E poi li metto uno sopra Cioè tecnicamente la torta prima la cuoci e poi metti i pezzi Prova La compone Quindi provo così Allora, ho cotto la mia bellissima torta Adesso devo mettere a lavare il piatto Dopodiché la portiamo qua Selezioniamo il colore viola La mettiamo Facciamo scendere il nostro bellissimo high-sing Come lo chiama lui La riprendiamo E dobbiamo andare a mettere lì il topping Quindi le candeline Oh mamma mia Ma la tua è già finita Stef E teoricamente la torta è pronta Sì Fere, è facile facile La tua invece è un'impresa impossibile praticamente Aspetti, io la appoggio qua Guardate E vediamo se quelle posso mettere una sopra l'altra Guardate che meraviglia Guardate quanto è carina Stef, mi dai una mano Fere, vieni a vederla Sì, però mi dai Aspetta, mentre cuocio la Guarda Fere Sì, è carina Vero? Ti piace? Molto Ok, allora la metto in vendita Dato che si mette qui per venderla Facciamo così E adesso ci darà i nostri soldi Ovviamente essendo un ordine che c'è realmente Veniamo pagati di più E si vede pure il cliente felicissimo Con la torta in mano Oh che carino 140 soldi Perfetto così Ok, ho venuto la mia prima torta Visto che tu ci stai mettendo una vita Eh bene, devo cuocere Vado a prendere altri ordini Perché voglio fare una torta difficile anche io Ok Vai Che ti è successo Stef? Eh questa Fere Uh ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Avevo ragione Stef Poi ti spiego come si fa Vai dimmi tu Guarda Fere Questa è difficile È come la mia Allora Ci provo Ci provo Ci provo Allora è rotonda È a tre strati Ok Il colore sotto è questo bianco Dopodiché abbiamo uno strato rossa sopra E infine abbiamo le caramelle gomose che stanno sopra Ok Allora non so Facile Se ci posso riuscire Però ci voglio provare Quindi partiamo così Allora teoricamente noi ne abbiamo tre alla vaniglia da fare E ne devo fare uno piccolo Uno medio E uno grande Partiamo ovviamente da quello grande Spiego come No Adesso sbagliere Farà una torta a zero piani Ho fatto Stef Per favore Ci riesco da solo Quindi non voglio nessuna spiegazione Guarda Questa sì che è una torta Guarda Mi copre pure la faccia Da quanto è bella questa sì che è una bella torta La posso rubare? Fami vedere No Vediamola Vediamo se il cliente è felice Se ho azzeccato tutto Perché ancora un po' di ansia Fammi sapere Fammi sapere Fere Allora devo acchiappare anche questa E l'appoggio qua Quindi per ora abbiamo fatto grande media Ora prepariamo ovviamente la piccolina E dopodiché inizierà l'inferno super difficile Mi prendo un ordine pure io Vorrei chiederti cosa devo fare Però il mio orgoglio mi dice che devo ragionarci E arrivarci da solo Non è difficile dai ci arrivi ci arrivi tranquillo Secondo me le devo unire Prima di metterle nel forno No ste No Le devi cuoce Devi fare il procedimento di cottura Ok Esattamente come nella realtà Cuoci tutti i pezzi Poi quando sono pronti E li hai glassati Li metti uno sopra l'altro Ah vabbè ma era ovvio Fere allora Mi hai fatto sembrare Che fosse difficilissimo Mi sono anche preoccupato Sì ma stavi per metterle tutte in forno Quindi No perché mi hai fatto venire dubbio Altrimenti non l'avrei mai pensato Che sei un carsone L'hai fatta apposta Per farmi fare una figuraccia Comunque posso in effetti Lavorare anche su più di una cosa alla volta Dato che Ne abbiamo la possibilità Guardate così come divento Tutto più veloce Tutto più funzionale Ma paga di più Fere Quanto ti ha pagato? 340 A me mi ha pagato 140 Oh e allora Vieni pagato per quanto lavori È giusto così Allora Allora sono giusti i prezzi Quindi adesso devo glassare tutto Con un bellissimo rosso Facciamo così E mentre viene glassato il primo Io vado già subito a prendere la seconda Così risparmio un sacco di tempo E teoricamente sono abbastanza veloce Sta prendendo forma Guardate che bellina Opla Adesso mettiamo la glassa Anche sopra l'ultimo strato Ed è praticamente pronta Allora appena è pronta Ti avviso Fere perché la devi assolutamente vedere Dovevo mettere i gummies Come cosa che stanno sopra Quindi le caramelle gomose E la torta Dopodiché è pronta Guardate un po' che meraviglia Oh Fere È più Arrivo arrivo Che è più bella della tua È carina Vero Perché le caramelle gomose Stanno in tutti gli strati Invece che sono sopra E sono troppo belline Sono davvero troppo troppo belle Oh poi non lo so Io le fragole nella mia Ho messo solo la parte piccola A mettere il topping Capito Allora è sbagliato Fere Ma no scusa Perché se tu la preparavi tutta E poi lo facevi Ti avrebbe 380 Mi ha pagato Ma scusa Non ha senso Perché nell'immagine Non era così Capito Allora ti spiego Io le ho combinate Quando stavo mettendo la glassa E sono andata a mettere il topping Capito Che era già tutto combinato E diventa più carina esteticamente Quindi secondo me ne vale la pena Forza Fere Andiamo Dobbiamo tornare a casa No Stef A me piace fare torte Non voglio venire No no Fere Dobbiamo andare a casa Allora ti sei tolto fuori questa macchina Non ti interessa Fere Ok Non fare domande Andiamo a casa Sì ho casa Io ho già la mia casa Come hai già la casa Sì sì Vedi guarda Io non l'ho comprata Perché non l'ho comprata Perché io sono più bravo di te Fere Guarda che bella casetta che ho qui Vieni 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 Forza 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 Aspetta Ok Benvenuta a casa mia Sì lo so È piena di mobili Però cosa puoi mettere Guarda subito le decorazioni Allora Allora Credo che devo premere home Andiamo su furniture E abbiamo Una bella sedia Per ora mi sembra tutto Una bella lampada Ok Sì E non altro Bella questa casa Stef Bella Sì Tu mi hai scomodato Mi hai tolto il mio lavoro Di Di pasticcera Per farmi vedere Una sedia E una lampada Però penso che mi ricolori Quello è bello A quanto pare Esiste un negozio Dove fare shopping Per Fere Mi hai chiuso la porta in faccia Non mi posso muovere Stai bene Fere Sono incastrata Aspetta Ora Niente Fere Fere Ecco Ok Piano una alla volta Nella porta Una alla volta Torniamo in auto va Voglio andare a vedere Nel negozio Cosa tutto si può comprare Fere dove sei adesso Sto fluttuando Sei con me Stef Sei geloso che ho fatto più soldi di te con le torte Scusa Spiegami eh Perché altrimenti non me lo spiego Che ci avviciniamo a cosa qua I consolini non lo sapevano Fere E succede di tutto Non è normale I consolini questa cosa non la sapevano Comunque Guarda qua Assomiglia un po' a quello della pizza Cioè Praticamente sembra Sì Anche Lamberticune Perché ad esempio Guarda il fatto di poter andare in giro Così tanto per la mappa Ma io non me l'avevo accorta Che era così grande Qua c'è un centro commerciale Fere Pensavo che fosse Ma Un po' vuoto Ma Ehi Scusate Adesso ci uccidono Fere si sono dimenticati Adesso c'è Jason Ah ok Da questa parte ci sono E probabilmente sai che cos'è Che questa mappa è nuovissima Quindi sicuramente dovranno ancora aggiornarle E mettere più cose Però è brutta sta cucina Fere Ah buongiorno Buongiorno Ma c'è anche uno che ci lavora Fere Pensavo fosse tutto deserto Salve Sì Poverina è mollato qua Stiamo soldando dando un'occhiata Quindi non si preoccupi Facciamo la soli Ah una faccia un po' strana Stef No Fere sta benissimo Allora questa cucina è molto carina Vediamo quanto costa Quanto Stef? 3200 Sì vabbè Ma quanto devi lavorare per avere una casa? 580 io Ok che ho fatto solo tre torte però Sì ma anche la cameretta Puoi comprare tutto il set Ah oppure puoi scegliere tre vari pezzi Sì ma il letto da solo costa 2000 Sì il completo 12.000 tutta la stanza Posso prendere almeno il peluche Neanche 2000 Me ne vado Ma c'è ti sembra Fere? Ti sembra una cosa normale questa? 2000 Per un peluche Puoi comprarla però Costa solo 500 Lo so anche controllare se davvero potevo Perché mi rimangono soltanto 80 Rendiamoci conto È dura la vita dei pasticceri e consolini È davvero dura Per essere la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare il video Iscrivervi per non perdere i video di altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao